Bocche cucite, nessuna dichiarazione rilasciata. Gli arrestati nell'ambito dell'operazione self-service, che ha smascherato una rete di persone dediti a truffe e danni dell'ASP, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano, Letizia Benigno, e al Pubblico Ministero, Vincenzo Quarante, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si sono avvassi della facoltà di non rispondere. Gennaro Russo, autista di ambulanza del 118, in servizio all'ospedale di Corigliano, e Domenico Parrotta hanno scelto il silenzio. Assieme a loro ci sono altre 24 persone, tutti indagati, medici, autisti, centralinistri e un impiegato amministrativo, tutti in servizio all'ospedale di Corigliano, Rossano e Cariati dell'ASP di Cosenza, indagati per peculato, frode nelle pubbliche forniture e truffe in concorso. La polizia di Rossano li ha incastrati dopo una serie di intercettazioni e di riprese video. In pratica facevano la cresta su ogni acquisto, su ogni riparazione meccanica delle ambulanze, dichiaravano falsi incidenti stradali, attestavano straordinari mai fatti. I fatti risalgono agli anni 2010-2011, queste sono le immagini girate dalla polizia, presso i distributori convenzionati, con schede intestate all'ASP di Cosenza, nelle ore notturne, in modalità self-service. Gli indagati facevano il pieno alle proprie autovetture, addirittura, come si evince dal video, la benzina veniva a volte anche venduta a terzi. Da queste immagini l'inchiesta si allarga, i poliziotti scavano e alzano tutto il calderone e scoprono una rete di truffatori che specula sugli straordinari, utilizza l'auto di servizio, a volte la stessa ambulanza, per scopi personali. In questi giorni i primi interrogatori, ma a quanto pare nessuno delle persone coinvolte, ha intenzione di parlare e rispondere alle domande del GIP. Nei prossimi giorni, gli altri interrogatori di garanzia.